È giunto il momento di un nuovo incontro con gli amici di Coyote per scoprire meglio tutti i vantaggi di questo particolare servizio capace di rendere i vostri viaggi più sicuri e rilassati. Buonasera, buonasera anche da parte mia. Ebbene, si parla sempre più spesso di tecnologia a bordo delle nostre automobili, si parla sempre più spesso di sicurezza e ci sono tanti, tantissimi dispositivi che possono aiutare noi automobilisti a guidare chiaramente in maniera sempre più sicura. Torniamo quindi su un argomento molto interessante, vado prima a introdurre il nostro ospite, saluto Gianni Pintonello, direttore marketing Coyote Italia. Buonasera e grazie di essere qui con noi. Grazie Alessio, buonasera a tutti e grazie di nuovo per l'ospitalità. Dicevo, dispositivi che oggi aiutano tantissimo l'automobilista, che lo ricordiamo è sempre più connesso grazie ai sistemi di infotainment a bordo, ai collegamenti con i propri smartphone, però ci sono dei sistemi che supportano quella che già ha oggi una sicurezza, direi che per tutti i segmenti di mercato a livello automobilistico è ampiamente ricca in termini di offerta, sia per quanto riguarda la sicurezza attiva che quella passiva, però ci sono anche dei dispositivi che possono aiutare da questo punto di vista. E voi, l'abbiamo già visto circa un mesetto fa con Coyote, date un contributo importante da questo punto di vista. Partirei proprio da questa considerazione, al di là di quello che poi sono i prodotti e la posizionamento sul mercato da parte vostra, l'utilità proprio nel utilizzare questi sistemi. Ma come dicevi giustamente tu, io partirei più dal concetto del servizio, nel senso che il servizio è poi offruibile attraverso dei prodotti. Noi puntiamo molto sul servizio, sulla qualità del servizio che è, diciamo, disponibile per i nostri utenti o per gli utenti che vorranno diventare parte della nostra community che ormai consta di 5 milioni di utenti in tutta Europa. Sicuramente il servizio è quello che ci differenzia dalla concorrenza. Il servizio che vuol dire un completo assistente alla guida, un compagno di guida quotidiano per tutte le persone che oggi per lavoro o per il tempo libero spendono tanti chilometri in strada. Un servizio che vuol dire offrire situazioni in tempo reale, informazioni in tempo reale. Le persone che sono in strada vogliono avere informazioni corrette, tempestive e corrette in tempo reale. Quindi per dare un supporto alla guida sempre più sicuro ed aiutare l'utente che è in strada a guidare in totale sicurezza. Il nostro servizio non è passato a volte come un deterrente per evitare le multe ma non è quello sicuramente il nostro obiettivo principale. È offrire una modalità di aiuto all'utente che è in strada a rispettare il codice della strada e ad essere allettato in quelle situazioni di pericolo che possono essere, diciamo, incontrate mentre si è alla guida del veicolo. Oltre al discorso dei dispositivi che peraltro vediamo qui esposti in studio oggi che chiaramente sono il mezzo attraverso il quale poi l'utente riesce a recepire questo tipo di informazioni direi che la cosa fondamentale, l'aspetto fondamentale, è avere più utenti possibili connessi. Certo. È il vantaggio del nostro servizio nel senso che molte case automobilistiche stanno offrendo lo stesso servizio ma purtroppo sono limitanti perché comunicano solo tra le case dello stesso brand. Il nostro invece è un servizio trasversale che può essere utilizzato da qualsiasi utente, da qualsiasi utilizzatore di marche diverse di automobili e si basa sul concetto di community. Molte delle informazioni sono già disponibili sul nostro database perché comunque le informazioni sul traffico in tempo reale piuttosto che le autoveloxissi mobili e le situazioni di tutto a delle autostrade sono già presenti ma molto il supporto viene dato dalla community. Community che oggi è di 5 milioni di utenti in tutta Europa e ovviamente chi meglio dell'utente del guidatore in strada può segnalare in tempo reale quelli che sono gli imprevisti che possono succedere mentre sei alla guida. Abbiamo qua in studio dei vostri prodotti che rappresentano un po' oggi la vostra gamma se vogliamo andare a vedere. Andiamo un attimo a spiegare nel dettaglio come funzionano questi oggetti soprattutto andando proprio a sottolineare l'aspetto forse dal mio punto di vista più interessante che è proprio la semplicità di utilizzo. Certo, ma la gamma dei nostri prodotti si compone di tre dispositivi principalmente il Coyote Mini, Coyote S e il Coyote Nav Plus. Questi sono i tre dispositivi che si differenziano per delle caratteristiche più di ergonomia o di grandezza dello schermo che di qualità del servizio perché il servizio poi è sempre lo stesso usufruibile da diversi dispositivi. Nav Plus è una tecnologia aperta e moderna nel senso che si dota comunque delle mappe IR all'interno del sistema di navigazione. Ha uno schermo molto grande da 5,5 pollici in full HD, uno schermo molto chiaro. ha un ricalcolo del percorso immediato qualora ci siano degli imprevisti di traffico o indici di incidenti lui suggerisce un percorso alternativo. La cosa importante del Nav Plus è che è una piattaforma aperta. Cosa voglio dire? Che è un sistema che subirà degli aggiornamenti, dei servizi innovativi che abbiamo in mente di fare da qui a fine anno. Questo non vorrà dire che l'utente deve cambiare dispositivo. Verranno adatti in forma gratuita all'interno del pacchetto appunto di abbonamento che l'utente sottoscrive con noi. E saranno diciamo implementati automaticamente perché comunque tutti i nostri dispositivi hanno all'interno sia un AssimDati che un sistema GPS. L'AssimDati perché permette di ricevere gli aggiornamenti in tempo reale quotidianamente, vuol dire i limiti di velocità, i limiti diciamo aggiornati delle autostrade piuttosto che delle superstrade o nuove, diciamo, spostazioni fisse di controllo delle autovelox. E questo attraverso la rete dati ovviamente permette di aggiornare in tempo reale tutte le informazioni e di comunicare tra dispositivi stessi. Il sistema GPS ovviamente il dispositivo deve riconoscere su che tratto di strada siamo, su quale stiamo diciamo guidando e permette di informarci in tempo reale sui limiti di velocità da rispettare. La nostra applicazione è pari e diciamo a livello di layout è molto simile se non uguale all'interfaccia del NAV+. Gli utenti che acquistano un dispositivo si ritrovano per la stessa modalità di acquisto l'app in forma gratuita. In teoria possiamo dire che stanno acquistando due dispositivi. Però il servizio, le allerte sono le stesse disponibili sia attraverso i nostri dispositivi che attraverso la nostra app, ripeto, per il mondo Android e per il mondo Apple. Il canone, diciamo, il nostro servizio, più che appunto ribadisco servizio non il prodotto, richiede un canone di abbonamento annuale o biennale. Questo può essere pagato in formula prepagata, quindi tutto diciamo all'atto dell'ordine, o in modalità mensile. A me piace dire che costa meno di un caffè al giorno, quindi 40 centesimi al giorno, diciamo il canone annuale, mentre preciso sull'app costa 5,99 euro al mese, però è senza vincoli, senza durata. Come dicevamo prima, lo posso usare un mese, due mesi, tre mesi, a seconda della mia, diciamo, necessità di utilizzo. È molto importante dire che è un servizio europeo, non solo italiano, perché comunque la community di 5 milioni è europea, anche se in Italia sta andando molto molto bene, ed è comunque disponibile in tutta Europa. Bene, si conclude qui il nostro appuntamento in studio. Io ringrazio Gianni Pintonello, direttore marketing Cogliote Italia, per le informazioni utili che ci ha fornito. Una raccomandazione è chiaramente sempre agli automobilisti quella di utilizzare o soffrire di questi prodotti che sono veramente fondamentali per la sicurezza durante i nostri spostamenti. Grazie Gianni. Grazie a voi e buonasera a tutti.